Se il presepe vuoi visitare, ferma la macchina e comincia a camminare. Questo è il messaggio che accoglierà da domani 8 dicembre tutti quei curiosi che vorranno visitare Bethlehem e Talacchio, nella sua magica cornice colorata da oltre 250 statuette di stoffa tra personaggi e animali. Un presepe itinerante che sarà percorribile soffermandosi sulle particolarità e sui minuziosi dettagli che da sei edizioni caratterizzano questa realtà unica nel territorio. Dalle Massaie ai Salumieri, passando per i pastori, fino alla Natività, ai piedi della chiesa. E poi i vestiti in disuso, le tovaglie, le coperte che grazie a impegno e passione ottengono una seconda vita. Un lavoro che da anni viene portato avanti con cura da alcuni abitanti di Talacchio e che nel tempo non ha visto soltanto aumentare le sue dimensioni, ma è stato capace di attirare anche tanta curiosità di altre città fuori regione. Come nel caso di Baronissi, comune in provincia di Salerno, che da un paio d'anni, dopo una fortuita visita al presepe di Talacchio, ha replicato queste rappresentazioni stringendo un gemellaggio con il comune di Vallefoglia. Gemellaggio che quest'anno ha avuto forma in uno scambio di tre statuette. Semplicemente il volere delle parrocchie e della comunità che hanno realizzato queste tre statue per portare nel presepe del ciliegio a Baronissi, in provincia di Salerno, in Campania, e ho riportato su tre statue. Credo che sia stato un lavoro straordinario delle due comunità della città. Talacchio, perché è partito tutto da Talacchio, perché il sindaco ha visto questo evento di Betlemme a Talacchio e l'hanno un po' copiato e hanno fatto un bel lavoro, devo dire, sotto un convento, in un luogo, in un parco pubblico, hanno fatto un bel presepe. Domani in contemporanea si saranno questi due eventi. Noi abbiamo firmato un patto di amicizia fra le due città. Un presepe itinerante che è un risultato frutto dell'impegno di alcuni pensionati e abitanti di Talacchio, ma anche della parrocchia che accompagna con la fede la realizzazione di questo capolavoro del territorio. Il presepe ha un valore immenso e molto importante, perché appunto ci parla di Dio che si fa umile, perché Dio lascia il suo rango divino per farsi uno di noi. Prendendo la nostra condizione umana, noi quando preghiamo ci rivolgiamo a uno che è come noi. Ci sentiamo proprio ascoltati perché Dio è amore facendosi uno di noi. Un mese esatto con l'inaugurazione di Betlemme a Talacchio che avverrà l'8 di dicembre alle 15 e si concluderà l'8 di gennaio. Un presepe che si animerà il giorno dell'Epifania con l'arrivo dei Remagi, mentre a colorare la via principale del piccolo paese ci penseranno anche i mercatini natalizi. La lotteria, praticamente noi vendiamo dei biglietti, poi il 5 gennaio nell'Unione dei Comuni, a Pian del Bruscolo ci sarà l'estrazione dei premi e il primo premio è una bicicletta elettrica del valore di 2.850 euro. Poi domani si inaugura il mercatino. Sì, domani, che è giovedì, venerdì, sabato e domenica, ci sarà il mercatino nel Salone della Canonica. Ci sarà il giorno dell'Epifania, piuttosto che nella Canonica lo si farà qui nella piazza e lungo la via che fiancheggia le postazioni del presepe. Tra le case che nei loro cortili ospitano parti del presepe itinerante c'è anche l'abitazione della signora Angela, che nel suo piccolo giardino ha lasciato spazio alle sue creazioni. Il percorso di Gesù, da lei realizzato completamente all'uncinetto, non è inserito nel progetto di Betlemme a Talacchio, ma il fascino non è affatto da meno. Tutte le tappe della vita di Gesù, create e raccontate con passione da Angela, in grado di riflettere ulteriore luce su Talacchio in questo magico periodo natalizio.